E' stata protagonista di una stagione memorabile della televisione italiana. Che cosa si ricorda oggi di quei momenti? Devo dire che mi ricordo tutto. Che cosa li ha resi così speciali, in un ricordo personale ma anche nella memoria collettiva? Speciale forse come tutti gli inizi. Quando qualche cosa nasce è sempre, uno almeno si augura che possa essere speciale. E devo dire che per me è stato speciale, perché mai a pensare di avere resistito, non so, per tanti anni come ho fatto. E poi per la possibilità che mi è stata data di crescere con questa televisione che è nata praticamente con me. La televisione che è nata con lei a quel tempo aveva uno scopo fortemente educativo, ha unito gli italiani, soprattutto da un punto di vista della lingua. Ecco, come crede che invece si sia evoluta? La televisione di oggi ha ancora questo valore? Purtroppo l'ha perso. C'è soltanto qualche cosa che per fortuna Rai 3 continua a fare, però certo non come una volta. Se pensiamo a tutto, non so, l'opera lirica, i concerti e poi tutte le commedie. C'è qualcosa che vuole ricordare in particolare? Tante cose, tantissime cose, ma in particolare ecco, una cosa che veramente ci fa capire come la televisione veniva accettata e vissuta a quei tempi. Dunque va in onda un giallo così con Alida Valli, con grandissimi attori e durante la trasmissione fanno fare un annuncio dall'annunciatrice, Orso Mando, dicendo che era stata rapita una bambina e quindi la gente non ha capito che faceva parte della commedia. Ha pensato veramente che fosse, per cui, non so, tutta la gente che è arrivata lì a Rai, insomma, qualche cosa veramente... E poi per fortuna però è venuto fuori che faceva parte della commedia, quindi... Però ecco, per dire come certe cose che la televisione diceva veniva appreso come parola di Dio proprio. La nostra manifestazione che quest'anno compie dieci anni ha come leitmotiv il divieto di urlare, che forse era anche una caratteristica di quella televisione e che invece sulla televisione di oggi un po' si distanza. Che cosa, diciamo, ne pensa del nostro format, di questa Kermesse e che effetto le fa essere qui ospite stasera? Ma i complimenti sempre ad Maiora, eh? Grazie. Prego.